Allora, che mostriamo che apprezziamo quello che hanno fatto? Allora, che mostriamo che apprezziamo con un bel applauso, e sono venuto nel campo, abbiamo chiesto le mani a Romerino, e ha contato la riunione con la scintura delante lato. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.